Nobert Ghiomber, ritornato in campo dopo oltre due mesi dall'infortunio, innanzitutto una domanda è d'obbligo, come stai? Sto benissimo, ho lavorato durante questi due mesi che stavo fuori molto duro ogni giorno e adesso sono molto felice che sono tornato e posso aiutare la squadra. Avete corso pochissimi rischi nella gara con il Cagliari, questo è un dato importante? Sì, importantissimo, ma non abbiamo sbagliato quasi niente questa gara, peccato che non abbiamo fatto più di un gol, quindi questo fa male un po'. Questa è una fase importante di campionato, gare decisive, come decisiva sarà quella di sabato prossimo a Crotone? Sarà una partita importantissima per noi, sia per loro sia per noi, andiamo a Crotone solo per vincere per tre punti. Ecco, hai proprio anticipato la mia domanda, tifosi che si aspettano questa vittoria? Sì, vogliamo vincere anche per loro perché come abbiamo visto anche l'ultima partita hanno sostenuto la squadra in una maniera grandissima e dobbiamo ringraziare solo così che a Crotone portiamo tre punti a Pescara. Crotone è scontro diretto, incontrerete una squadra che ha un po' gli stessi vostri problemi, troverete anche un ambiente caldo? Eh, forse sì, sicuramente sarà un stadio pieno perché sarà un scontro diretto. Spero che arrivino anche i nostri tifosi e danno una mano anche loro. Per chiudere Norbert, ultime queste giornate di campionato prima della sosta, Crotone, Bologna, poi Palermo, sono gare comunque importanti in cui bisognerà fare molti punti. Eh sì, penso che queste partite facciamo in maniera come abbiamo fatto contro i Cagliari, anche qualche punti facciamo.